E adesso giuro sopra il mio diario, dov'è c'è la mia foto che è dedicata a me. Giovedì 9 febbraio, in un tragico incidente nei pressi di Colorno, paese in cui abitava, ha perso la vita Roberto Corradi, di 45 anni. Un tragico sconto frontale con un camion che trasportava lastre di marmo lo ha portato via all'affetto dei suoi cari. Lascia un figlio quindicenne di cui era profondamente innamorato, la mamma ed il papà residenti, a Ramiola di Medesano. Ed è proprio nella zona di Ramiola, quella attorno a Fornovo, Varano, Rubiano e Medesano, che Roberto ha vissuto la sua gioventù. Gli anni della scuola superiore all'Izzos di Fornovo, che allora non era ancora Gadda, gli amici di Ramiola e la compagnia del Bar Nazionale di Fornovo. Roberto era un ragazzo appassionato di calcio, allegro e a cui piaceva ballare, piaceva la musica, sempre pronta a giocare e divertirsi con gli altri, capace di una schiattezza a volte disarmante, sincero, amante delle belle ragazze, con tante piccole certezze che gli davano una serenità e un innamoramento della vita che era difficile da vedere in altre persone. Insomma, Roberto era una persona positiva. Nonostante oramai la sua vita fosse lontana da Ramiola e Fornovo, in tanti l'hanno ricordato sui social media in questi giorni. Gli amici della Quinta C dell'Izzos ricordando momenti importanti ed immagini. Gli amici di Ramiola hanno raccontato momenti di intimità amicale e gli amici di Fornovo nel loro cuore hanno rivissuto i momenti trascorsi con lui. Io sono uno di quelli, facevo parte assieme a lui della compagnia del Bar Nazionale. del Corra, come lo chiamavamo tra di noi, mi ricordo i giri al mare, il viaggio con il ritorno in treno per andare in Liguria al giuramento di un amico, purtroppo anche lui scomparso, e le tante feste. Da una festa della compagnia, come la chiamavamo noi nel 95, ho tratto le immagini che vedete. Roberto lo ricordo così, sempre allegre e festaiolo, ma senza eccessi, un'allegria pulita, ballava, cantava e si divertiva con grande serenità. Poi il Corra, come tutti noi, ha preso la sua strada e la compagnia si è disgregata. La sua strada l'ha portata a Colorno, dove ha messo su famiglia. Ma gli amici di gioventù, quelli della compagnia, non si dimenticano. Gli amici rimangono nel cuore, attraverso le immagini, attraverso i ricordi di momenti, le sensazioni e le emozioni provate insieme. Sono convinto che Roberto non abbia vissuto una vita triste. Immagino che abbia affrontato difficoltà e momenti di tristezza, ma abbia avuto sempre la forza positiva di affrontarli con il sorriso sulle labbra e con quella scansonata serenità che si vede nelle immagini di questo video. Ciao Corra, ovunque tu sia, spero che possa essere allegro e spensierato come queste immagini.